Ben ritrovati al nostro appuntamento con dell'informazione che apriamo dandovi in qualche modo i numeri nel senso specifico che riguarda l'aeroporto Costa d'Amalfi non c'è la possibilità di fare i paragoni perché parliamo di una apertura anche se si tratta di una riapertura ai voli ma oggi Asso Aeroporti ha reso noti i numeri riguardo al traffico di passeggeri che sono transitati attraverso il Costa d'Amalfi e sono cifre lusinghiere che fanno ben sperare per il prosiego delle attività dell'aeroporto che ormai è il secondo per importanza in campagna ed è gestito da GESAC in maniera satellite rispetto all'aeroporto di Capodichino sentiamo i numeri Fare un paragone non è facile in assenza di numeri che possano definire lo scalo aeroportuale Salerno Costa d'Amalfi prima della sua data di partenza o meglio ripartenza quella dell'11 luglio 2024 ma i numeri di Asso Aeroporti pubblicati in mattinata fanno ben sperare sulla operatività e sulla crescita dell'infrastruttura posizionata tra Ponte Cagnano e Bellizzi un incremento del 439 per cento dei movimenti complici e la riapertura e lo start con le compagnie di linea che hanno scommesso tutto sull'aeroporto salernitano che oggi è il secondo in campagna gestito da GESAC come satellite dell'aeroporto di Napoli Capodichino un numero di oltre 14.000 passeggeri transitati 3.691 nazionali 10.652 internazionali e una percentuale da capogiro sui movimenti totali del mese che si attestano al 4.071,4 per cento il tutto mentre si prospettano belle novità da parte delle compagnie aeree tra cui Whizzer e EasyJet che si preparano e scaldano i motori sia per la winter season che per la summer 2025 quando già due nuove mete inglesi si faranno spazio dal costa d'Amalfi gli annunci di nuove mete e destinazioni con conseguenti days di volo potrebbero essere pronti già nei prossimi giorni Voltiamo pagina, torniamo a Salerno perché oggi ufficialmente è stata emessa l'ordinanza che interdice l'utilizzo della scuola Carlo Alberto Alemagna situata nel quartiere di Torrione la preside Rosaria Napoliello è al lavoro per trovare come dislocare gli alunni del plesso nelle diverse possibilità a sua disposizione c'è l'impegno e questa è una notizia per rassicurare i genitori da parte dell'amministrazione comunale che verrà messa a disposizione una navetta per spostare gli alunni da piazza Ovidio dove si trova attualmente il plesso che verrà chiuso alle varie scuole dove gli alunni troveranno posto E' stata emessa ufficialmente questa mattina l'ordinanza che interdice l'utilizzo degli spazi della scuola Carlo Alberto Alemagna, il plesso che affaccia su piazza Ovidio a Torrione e che ospota classi dell'infanzia e delle elementari La preside Rosaria Napoliello ha preso così ufficialmente atto anche della distribuzione che salvo ulteriori determinazioni potrebbero venire fuori dalla riunione di giunta in programma il prossimo 4 settembre distribuisce le classi in vari plessi e strutture che hanno aule disponibili Per la precisione due sezioni dell'infanzia della scuola Collodi saranno ospitate al plesso di Sala Bagnano una classe in via Pisacane dove c'è un'altra scuola dell'infanzia comunale Le primi classi della primaria andranno al plesso della Luciani le seconde alla Pironi, le terzi in due locali dell'Oratorio Santa Croce che già sono stati utilizzati durante il periodo Covid mentre le quarte e quinte andranno nel plesso di Torrione Alto L'amministrazione comunale di Salerno ha offerto la sua disponibilità anche a mettere a disposizione per i genitori che rifaranno richiesta un servizio di accompagnamento da piazza Ovidio verso le succursali attraverso una navetta gratuita E intanto proprio in vista della riapertura dell'anno scolastico non riaprirà via De Renzi ci vorrà infatti ancora un po' di tempo per riaprire la strada chiusa dallo scorso 31 luglio a causa di un incendio c'è infatti anche un vincolo paesaggistico a ritardare i lavori di messa in sicurezza e questa mattina a firma del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è stata presentata un'istanza alla soprintendenza per chiedere di rimuovere il vincolo che altrimenti limita l'intervento per la messa in sicurezza del costone roccioso è stata presentata questa mattina dal comune di Salerno un'istanza per ottenere dalla soprintendenza i beni archeologici e architettonici di Salerno e Avellino uno svincolo paesaggistico sulla fascia protetta che appartiene al costone roccioso del castello di Arechi e che si affaccia su via De Renzi è questo l'ultimo ostacolo burocratico che ha causato ritardo per la messa in sicurezza l'ultimo ostacolo ancora da superare per avviare la messa in sicurezza della zona che tiene chiusa la strada ormai da un mese dopo l'incendio dello scorso 31 luglio l'amministrazione comunale di Salerno ha ottenuto rassicurazioni su una risposta in tempi brevi da parte della soprintendenza il prossimo 4 settembre la giunta comunale sarà chiamata ad approvare il progetto definitivo per la messa in sicurezza del costone roccioso che si affaccia su via De Renzi i lavori sono già stati affidati per un importo di 200.000 euro questo significa che non sarà possibile riaprire la strada in concomitanza con la riapertura delle scuole che era una delle preoccupazioni dei residenti e del comitato di quartiere ma secondo le rassicurazioni fornite dall'assessore alla mobilità del comune di Salerno Rocco Galdi basteranno una decina di giorni per ultimare l'intervento di messa in sicurezza e riaprire la strada a servizio delle frazioni alte della città di Salerno ed in modo particolare del rione Canalune a proposito di viabilità c'è da ricordare anche lo fa periodicamente l'ANAS che siamo davanti ad un weekend da bollino rosso fino a domenica 1 settembre è attesa su tutta la rete autostradale la partenza verso il nord di chi è andato in vacanza sarà interessata naturalmente anche il territorio provinciale di Salerno da questo rientro del controesodo e naturalmente c'è tutto il supporto di ANAS e della Infoviabilità per aiutare gli automobilisti a non restare intrappolati è l'ultimo weekend segnato dalla fine delle vacanze e dei rientri a casa per il ritorno al lavoro e la preparazione alla riapertura delle scuole sul bollettino della rete ANAS dove è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del centro nord Viabilità Italia ha annunciato dunque bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata anche di domani sabato 31 agosto e per domenica 1 settembre spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura di mare al sud e di montagne al nord e dai confini di stato come sempre il calendario dei bollini per l'estate è disponibile sul sito di ANAS e di Viabilità Italia per consentire la fluidità del traffico ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre saranno infatti sospesi 906 interventi il 70% dei cantieri attivi si prevede inoltre un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani sabato 31 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 1 settembre dalle 7 alle 22 per quanto riguarda il territorio della provincia di Salerno l'intensificazione della circolazione stradale potrà riguardare la 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa l'intera campagna e anche il tratto salernitano della statale 18 tirrena inferiore verso la Calabria la presenza su strada di ANAS sarà di circa 2.500 risorse costituite da personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle sale operative delle sale situazioni nazionali che assicurano il monitoraggio della rete autostradale del traffico in tempo reale H24 Ed intanto a proposito di viabilità ci sono buone notizie anche per quanto riguarda il collegamento ferroviario con l'alta velocità Salerno Reggio Calabria perché ieri c'è stato il parere favorevole espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza nell'ambito dell'ITER che porterà presso alla chiusura della procedura di valutazione di impatto ambientale e dunque c'è grande ottimismo sul prosieguo dei lavori ad esprimerlo in modo particolare è stato il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Tullio Ferrante che in una nota ribadendo l'approvazione dell'ITER dei lotti 1B e 1C che riguardano la linea da Romagnano a Praia ha definito il passaggio un ulteriore importante tassello lungo la strada che vede il governo italiano adoperarsi con determinazione e concretezza al fine di supportare lo sviluppo del sud il deputato e sottosegretario a MIT con delega al coordinamento delle attività commissariale Ferrante ha definito quello di ieri un passaggio significativo per l'avanzamento del procedimento amministrativo propedeutico alla realizzazione di una grande opera infrastrutturale che cambierà il volto del nostro sud torniamo ora invece ad occuparci della prossima edizione di Lucida Artista ieri c'è stato il via ufficiale alla gara d'appalto per la creazione il montaggio ma anche lo smontaggio della diciannovesima edizione oggi l'argomento è approdato all'esame della commissione trasparenza preseduta da Antonio Camarota approda per la terza volta l'esame della commissione trasparenza del consiglio comunale di Salerno l'affidamento e l'installazione di Lucida Artista la diciannovesima edizione per il percorso illuminotecnico che rappresenta un evento di grande richiamo per la Salerno turistica il presidente della commissione Antonio Camarota e i componenti ci hanno voluto vedere chiaro dopo la mancata risposta alla prima manifestazione di interesse alla quale ieri il comune ha dato seguito bandendo la nuova gara che è stata appunto avviata ieri oggi è stato ascoltato in commissione trasparenza il dirigente del settore Luigi Mastrandrea tanti punti sui quali il presidente della commissione Antonio Camarota ha chiesto il parere e le spiegazioni del dirigente Antonio Camarota perché la convocazione di Luigi Mastrandrea in commissione trasparente? perché la manifestazione di interesse che il comune di Salerno aveva fatto per il mese di luglio è andata negativamente espletata in quanto Irene ha detto con questi soldi io non vi faccio luci d'artista bisogna capire a questo punto col bando che è tutt'altra cosa cosa capita se nessuno corrisponde alle somme offerte Mastrandrea fa quello che deve fare lo fa egregiamente è un dirigente poi c'è l'atto di indirizzo politico e qui forse un discorso va fatto perché questa manifestazione ormai è stanca è ripiegata su se stessa è rivolta al passato sono veramente le luci del passato ci vuole un colpo d'ala ci vuole una rigenerazione dell'iniziativa ci vogliono gli sponsor pubblici ci vogliono gli sponsor privati ma questo è un atto di indirizzo politico che forse questa amministrazione non vuole ma intanto è alla terza convocazione su luci di artista in commissione trasparente sì perché noi ascoltavamo l'assessore sulla mancanza di fondi ci aveva assicurato che comunque c'erano dei fondi di riserva la commissione trasparenza deve fare trasparenza poi ognuno fa le valutazioni che vuole ripeto non si capisce perché non si cerchi una sponsorizzazione che consente attraverso messaggi pubblicitari semplici anche una mongolfiera dei tabelloni di finanziare un evento che altrimenti è destinato a finire lentamente come sta bene ad una delle sue prime preoccupazioni fu direttamente il governatore della regione Campania a rispondere nessuno si deve preoccupare la regione comunque investirà su luci di artista ora aspetta di sapere se ci sarà il sostegno della regione la moneta è arrivata la settimana scorsa questo ci ha detto già l'ingegnere Mastrandrea il problema è capire come si vuole sviluppare questa manifestazione considerando che per l'ennesima volta arriviamo fuori tempo massimo Beh e a proposito invece dell'atteso sblocco dei fondi di coesione ma anche soprattutto della diatriba in corso da tempo del governatore della regione Campania contro la legge sull'autonomia differenziata ieri il presidente De Luca ha avuto ancora una volta occasione di ribadire il suo punto di vista davanti alla platea rappresentata da tanti sindaci della provincia di Salerno parliamo dell'inaugurazione del premio Sele d'Oro nel corso del quale il presidente De Luca ha ribadito ancora i capisaldi di questa battaglia Noi siamo impegnati come regione Campania contro l'autonomia differenziata della legge Carderoli ma noi siamo in prima fila per la difesa dell'autonomia contro il centralismo Siamo pronti a lanciare la sfida dell'efficienza e pronti a dire basta alla narrazione di un sud delle ruberie del parassitismo il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca ha avuto occasione ancora una volta ieri in occasione della sua partecipazione all'inaugurazione del premio Sele d'Oro ad Oliveto Citra di ribadire il suo punto di vista sull'autonomia differenziata e sui rischi che si corrono chi sta tradendo l'autonomia sono le regioni del nord ha detto De Luca alla platea alla presenza di numerosi sindaci del territorio salernitano che hanno sposato la sua causa e stanno raccogliendo le firme per il referendum abrogativo della legge in questo momento in Italia è in atto la più grande operazione di centralizzazione burocratica che si sia mai vista ha ribadito De Luca ricordando che è stata eliminata l'agenzia della coesione tutte le materie che riguardano il PNRR ha ricordato il governatore sono state concentrate nella stanza del presidente del consiglio così come il fondo di perequazione infrastrutturale 4 miliardi di euro che è stato cancellato e doveva invece servire a ristabilire gli equilibri infrastrutturali tra nord e sud oggi comprendiamo che è una legge pericolosa almeno su due piani quello della sanità e quello della scuola pubblica autonomia differenziata significa che una regione del nord può fare contratti integrativi regionali per il personale sanitario il che significa che la sanità del sud è molta così può avvenire anche per il personale scolastico allora qui dobbiamo chiarirci il tempo del gioco delle tre carte è finito la legge prevede che l'autonomia differenziata debba essere realizzata senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in queste condizioni come si trovano le risorse per garantire i livelli essenziali di prestazione allora bisogna fare un'operazione verità e per quello che ci riguarda siamo pronti a lanciare la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque questa narrazione che è ricominciata il sud come l'area del parassitismo dell'inefficienza delle ruberie della comunità deve finire noi siamo pronti a sfidare tutte le regioni del nord sul piano dell'efficienza amministrativa della gestione dei bilanci della trasparenza e se ci è consentito pure della concretezza operativa sulla stessa lunghezza d'onda anche l'intervento del presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri che ha parlato di una legge che ha sancito la slealtà del nord del paese verso il mezzogiorno per me si è sancito con legge la slealtà di una parte del paese contro l'altra parte del paese che aveva più bisogno che sta scivolando dalla povertà alla miseria le vedo come grande minaccia il futuro per il mezzogiorno bene ci occupiamo ora di cronaca per parlarvi di controlli che sono stati effettuati dalla polizia di stato sulla vendita di bevande alcoliche a minorenni i controlli hanno riguardato in modo particolare il territorio della cosiera amalfitana tra i comuni di maiori e minori dove nella notte del 28 agosto si è svolto lo spettacolo musicale minori in white nell'anfiteatro del porto turistico il personale della polizia di stato ha effettuato un'attività di controllo riservando come vi dicevo particolare attenzione ai punti di somministrazione delle bevande nel corso della verifica sono state riscontrate in osservanze alle prescrizioni che vietano la vendita di alcolici ai minori di 18 anni ma anche ad una serie di prescrizioni contenuti nella licenza comunale di pubblico spettacolo il rafforzamento dei controlli con l'applicazione delle sanzioni previste si legge in una nota della polizia di stato costituisce una precisa strategia della questura di salerno di tutela dei più giovani volta a disincentivare il comportamento di chi vende alcol ai minori è stata sottoposta a sequestro a padula nell'agriturismo dove ieri si è verificata la tragedia la piscina nella quale ha perso la vita un tredicenne originario di montesano sulla marcellana ed è il momento tornati in studio di occuparci dei festeggiamenti per san matteo ufficialmente aperti con l'alzata del panno ma oggi ad anticipare alcuni degli appuntamenti è stato direttamente il vescovo di salerno monsignor andrea bellandi nella consueta rubrica nella quale in nove minuti aggiorna i fedeli su tutti quelli che sono gli appuntamenti in programma con la curia di salerno e con la reliquia in braccio di san matteo io visiterò alcuni luoghi di sofferenza quindi l'ospedale ruggi il carcere a fuorni l'ospedale campolongo e poi anche ovviamente dato che è il patrono anche visiterò la guardia di finanza e la sede dei commercialisti per poi avvicinandosi al triduo come già detto è stato il vescovo di salerno andrea bellandi nella consueta rubrica in cui in nove minuti aggiorna i fedeli sulle novità gli appuntamenti della curia salernitana ad anticipare il programma degli appuntamenti in vista di san matteo il santo patrono della città di salerno torna il pellegrinaggio della reliquia del santo patrono con una serie di tappe mentre il tredici ci sarà il tradizionale appuntamento con l'omaggio floreale alla statua di san matteo situata sull'arco di piazza flavio gioia come negli anni precedenti ci saranno dei momenti tenuti da vescovi provenienti da altre realtà il diciannove settembre è in programma la visita di sua eccellenza monsignor repole arcivescovo di torino il 20 il vescovo bellandi presiderà i vespri ed il rito della raccolta della manna in questi giorni immediatamente precedenti poi ci saranno i consueti incontri e appuntamenti della settimana matteana delle giornate matteane abbiamo invitato per mercoledì 18 il professor Manicardi che è vicario generale della diocesi di Carpi e poi Vito Mignozzi che è preside della facoltà teologica della Puglia questo mercoledì 18 alle 20 e 15 giorno dopo ci sarà Antonio Landi professore alla università urbaniana e lo stesso appunto arcivescovo di torino monsignor repole farà un intervento in queste giornate matteane arrivando poi al giorno di San Matteo alle 10 30 noi celebreremo il pontificale e come dicevo al momento dell'alzata del panno ho invitato il generale dei francescani padre Massimo Fusarelli che terrà l'omelia in quanto vogliamo un po' quest'anno legare la figura di San Matteo anche a quella del santo poverello perché in questi anni si celebrano importanti centenari ecco l'ottocentesimo anno delle stigmate poi ci sarà l'ottocentesimo anno del cantico delle creature poi nel 26 la morte 800 anni della morte di San Francesco quindi e ci sono anche altri appuntamenti che sono quelli che ci vengono suggeriti dalla nostra consueta rubrica va bene ora vi darò un bacetto ma non farti illusioni al Cinemateatro San Demetrio di Via Dalmazia Salerno quest'oggi è in programma il film di animazione in uscita nazionale Cattivissimo Me 4 tra gli spettacoli alle 17.30 alle 19.30 e alle 21.30 ingresso intero 7 euro ridotto 5 euro il giovedì non festivo ingresso unico 5 euro per informazioni 089 22 0489 www.cineteatrosanemetrio.it Andiamo ti divertirai te lo prometto le previsioni del tempo e poi spazio allo sport in collaborazione con Eureka la tua Previsioni per domani. Al mattino. Sulle coste. Cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna. Cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio. Sulle coste. Cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna. Cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Ed eccoci tornati in studio. È il momento di occuparci di sport. Apriamo subito parlando del calciomercato perché si chiude oggi a mezzanotte la sessione estiva. La Salernitana ha accolto oggi il terzino Jarosinski che torna in Granata dopo due anni e mezzo. Altre trattative ancora in corso. Insomma lavoro intenso per il direttore sportivo Petrachi. Aydin Rustic arriva dal Verona in cambio di Brada e ci sarà un altro centrocampista offensivo a disposizione di Martuscello. Per la corsia sinistra Petrachi ha puntato su un calciatore già visto in due differenti momenti a Salerno. Pavel Jarosinski ha la sua terza avventura in Granata. Il trentenne difensore polacco è arrivato questa mattina in sede accompagnato dall'agente Andrea Luciani, ex calciatore della Salernitana di Zeman. Felice per il suo ritorno a casa, Jarosinski è pronto per giocare. Il club Granata lo ha prelevato dal Tracovia a titolo definitivo. Può giocare a sinistra ma all'occorrenza può anche agire da centrale Mancino, ruolo per il quale Petrachi tratta con Gianmarco Ferrari che come Jarosinski fa parte della scuderia Pastorello. Per l'esperto difensore Mancino ex Sassuolo Petrachi ha avuto il via libera da parte della proprietà. Tra gli svincolati c'è anche Letizia, cui si era pensato per coprire le due fasce difensive. Sambià potrebbe andare all'Empoli intanto, mentre per Daniluk si deciderà tutto in extremis. Va ricordato che in Austria il mercato chiuderà il 5 settembre ed il Salisburgo è sempre interessato al difensore, alla cui partenza però imporrebbe l'inserimento in rose di un centrale di piede destro. Ieri volum è passato al Taranto, Culiballi e Legoschi sono in bilico, in attacco Torregrossa e Giopero sono in ballottaggio. C'è tempo fino a mezzanotte. Da domani ci si potrà rivolgere gli svincolati o cedere calciatori in quei mercati ancora aperti. Ed intanto è sold out il settore ospiti dello Stadio Martelli di Mantova. Saranno circa mille i tifosi Granata presenti domenica sera. Ci saranno anche alcuni nuovi acquisti. Martuscello avrà a disposizione Jarosischi e Lussic. Per la gara di domenica a Mantova la serenitana potrà contare sull'immancabile sostegno dei suoi tifosi che saranno presenti in massa. Mille più o meno quelli attesi che hanno in poche ore polverizzato i tagliandi del settore ospiti. Martuscello andrà a caccia dei primi punti esterni stagionali e potrà contare su Jarosischi e Lussic due degli ultimi arrivati. Già pronti i terzini e il centrocampista saranno convocati e potranno anche trovare spazio, visto che ci sono diverse defezioni. Specie al centrocampo, infatti, il tecnico ischitano deve fare conti con alcune assenze. Maggiore, Soriano, Reina, De Laid sono ai box e lo sarà anche Callon. L'esterno di proprietà del Verona ha rimediato quattro giornate di squalifica in seguito all'espulsione, alle proteste, con tanto di contatto fisico con l'arbitro. Ed ora le gare della Saritana stanno studiando il referto di Felicianni e le motivazioni del giurice sportivo per il ricorso. Sul versante destro del tridente restano Verde e Sfait a disposizione. Callon salterà la gara di Mantova, quella interna colpisa dopo la sosta. E se saranno confermati quattro turni di stop, anche le gare Correggiano e Catanzaro potrà giocare solo in Coppa Italia contro l'Udinese. La Saritana rifinirà la preparazione per la gara di Mantova. Domani mattina e nel primo pomeriggio si metterà in viaggio. Sul fronte formazione dovrebbe esserci la conferma di Tonghi a centrocampo. Simi sarà la punta centrale con Wodarcic disponibile e pronta a subentrare. A sinistra ballottaggio tra Braffa e Valencia. Bene, è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro TG che vi ricordiamo può essere rivista integralmente attraverso i nostri canali social, sul sito di TV Oggi e anche su Facebook. Grazie intanto per essere stati con noi. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.